buongiorno a tutti oggi andremo a realizzare una ricetta una santonore con base frutta dietro a ogni torta dietro a ogni dolce ci sono tante variabili e tante considerazioni da effettuare allora innanzitutto come andremo a costruire questo dolce andremo a costruire il dolce non come una classica santonore ma inteso come una torta moderna questo perché andare a costruire anche una santonore in questo senso con l'utilizzo appunto dei cerchi andiamo a ottimizzare il lavoro allora nello specifico andiamo ad utilizzare prodotti frascheri prodotti di altissima qualità che come professionista e presidente della federazione internazionale sposo completamente perché dietro a questi prodotti c'è una tecnologia che mi permette a me professionista e a voi professionisti da ottenere il massimo nelle mie diverse preparazioni sia esse intese come preparazioni di pasticceria ma anche intese come preparazioni di gelateria allora entriamo nello specifico della ricetta noi andremo a realizzare appunto un pan di spagna particolare un pan di spagna che riesce ad assorbire dalle 4 alle 5 volte il proprio peso in liquidi e quindi è importante appunto per mantenere nel caso specifico anche della bagna della frutta per mantenere all'interno della struttura questi liquidi questa bagna poi andremo a fare una crema pasticcera particolare andremo a vedere proprio come esaltare gli aromi nella nostra crema pasticcera la crema pasticcera si chiama crema vaniglia appunto all'interno c'è una bacca di vaniglia c'è del limone ecco come vado a esaltare il gusto di questa vaniglia perché utilizzerò una parte di latte UHT insieme a del latte intero e della panna e dopo nello specifico vedremo appunto come andare ad esaltare al massimo il gusto di questo prodotto da questa crema chiaramente andremo a fare una chantilly all'italiana aggiungendo della panna più fino al pan di spagna meglio sarà la deglutizione delle diverse consistenze e l'esaltazione appunto finale del prodotto quindi vedremo anche questa crema la stratificazione come verrà realizzata e per finire andremo nello specifico a vedere i bignè i bignè dove andremo nella ricetta proprio a immettere del latte della panna perché ricordo che questi prodotti latte panna hanno all'interno del lattosio e hanno ti danno una colorazione maggiore del prodotto finito cosa che avviene tramite la reazione di maillard cosa cosa dice questa reazione di maillard in presenza di proteine e di zuccheri o la colorazione esterna con particolari sviluppi di parti aromatiche fondamentale sposare un'azienda e sposare dei prodotti di qualità quindi a partire da un burro da un latte da una panna che mi danno delle colorazioni ottimali e del gusto ottimale una pasta frolla deve avere un bel gusto di burro dei buoni profumi di burro che si sviluppano così una sfoglia così una panna quindi secondo il mio punto di vista che cos'è oggi la qualità è la scelta delle materie prime quindi utilizzare un'azienda che chiaramente fa della qualità un suo punto fondamentale poi noi professionisti dobbiamo mettere il nostro e mettere il nostro vuol dire andare a creare siamo artigiani siamo artisti del dolce ognuno con le sue caratteristiche andrà a creare i prodotti migliori per un consumatore finale sempre più esigente andiamo a realizzare un inserimento di lamponi nello specifico lo andremo a immettere in una sant'onore però sono prodotti che si adattano e si adeguano anche nel mondo della gelatteria come della pasticceria mignon allora dalla nostra ricetta quindi abbiamo sciolto idratato la gelatina l'abbiamo sciolta insieme a una parte di polpa di lamponi e degli zuccheri ecco è importante non andare a scaldare tutta la polpa di lamponi perché voglio far vedere appunto la differenza nella colorazione se io dovessi andare a scaldare tutta la polpa di lamponi notiamo che il colore di quella scaldata è leggermente più scuro quindi torno un po a collegarmi anche al concetto che è fondamentale il mio consumatore quando si presenta avanti una vetrina e vede che la colorazione di un prodotto specifico come in questo caso di una gelatina di lamponi non richiama le caratteristiche organolettiche del prodotto materia prima in questo caso lampone chiaramente ci sono può essere un prodotto chimico è un prodotto vecchio quindi mantenere inalterate le caratteristiche organolettiche del prodotto è fondamentale quindi abbiamo visto nello specifico non sciogliere completamente non scaldare tutta la polpa di lamponi quindi come dicevo andiamo ad unire la gelatina con gli zuccheri sciolti e una parte di polpa nella rimanente polpa in questo modo quindi andiamo a mescolare e infine una cosa molto gradita è andare ad aggiungere la panna eccoci qua panna 38 per cento che dà una maggior intensità di cremosità al nostro prodotto ecco mescoliamo accuratamente ecco ora andremo a costruire il nostro cuore di gelatina quindi mediante dell'acqua facciamo un'operazione molto semplice la parte esterna del nostro cerchio lo andiamo a rivestire a inumidire con dell'acqua lo andiamo poi a rivestire con una pellicola allora ricordo che in commercio ci sono anche degli stampi in silicone però non trovando magari una misura adeguata per il nostro dolce possiamo anche andare a effettuare questa operazione quindi andiamo a versare la nostra gelatina all'interno dello stampo in questo modo e quindi questo prodotto lo andremo ad inserire nell'abbattitore buongiorno a tutti oggi vi parliamo della regina della pasticceria la crema pasticcera detta anche crema vaniglia per avere una buona intensità di gusto di vaniglia dobbiamo fare un'infusione un'infusione nel latte UHT quindi il giorno prima si porta ad ebollizione una percentuale di latte UHT con delle bacche di vaniglia in questo caso anche l'aggiunta di limone il giorno dopo successivamente vengono immesse con il resto degli ingredienti adesso vedremo un po' la preparazione allora intanto mescoliamo il nostro saccarosio con dell'amido abbiamo il latte e la panna i tuorli e appunto l'infusione allora lo zucchero e l'amido lo andiamo a versare sui tuorli poi andremo ad unire i liquidi appunto il latte e la panna ecco ricordo che è fondamentale nel momento in cui vado a immettere la molecola dello zucchero con quella del tuorlo subito bisogna miscelare i due prodotti le due materie prime perché questo? molte volte noi vediamo che si formano degli agglomerati diciamo volgarmente si brucia lo zucchero in effetti cosa succede? lo zucchero è igroscopico quindi inizia a legare a sé dell'acqua appunto c'è una disidratazione del tuorlo e appunto quegli agglomerati che si formano è il grasso e le proteine quindi nel momento in cui vado a miscelare il tuorlo e lo zucchero subito devo mescolare le due materie prime quindi andiamo ad immettere la panna e il latte in questo caso ho usato appunto una panna frascheri al 35% e mi aumenta anche la cremosità del prodotto abbiamo parlato appunto di prodotti specifici che cos'è una crema? lo dice il nome stesso una cremosità una crema vellutata che si scioglie quasi al palato e quindi utilizzare un prodotto al 35% una panna delicata è fondamentale per ottenere prodotti di successo successivamente ecco abbiamo visto togliamo quindi l'infusione le bucce di limone ok quindi immettiamo questa infusione nella nostra crema in questo modo e quindi adesso procediamo nella cottura cottura che può essere in microonde nella piastra induzione nei cuoci crema abbiamo diversi sistemi di cottura anche in sottovuoto volendo noi adesso andremo a cuocerla e il risultato finale lo vedremo dopo la cottura della crema pasticcera procediamo al raffredamento mettendola in abbattimento in positivo buongiorno a tutti cominciamo la costruzione della nostra santo norè abbiamo tagliato il pan di spagna ecco voglio far vedere proprio la finezza perché come concetto proprio andiamo a costruire il dolce come una torta moderna e ricordo che nel momento della degustazione è fondamentale avere parti molto sottile che danno una miglior deglutizione del prodotto è anche una miglior percezione di tutte quelle che sono le parti aromatiche dove per parti aromatiche in primis abbiamo la nostra crema vaniglia allora la crema vaniglia crema pasticcera andiamo ad aggiungere a fare una chantilly all'italiana quindi andiamo ad aggiungere una panna al 38% tiene una bella montatura un buon profumo dei buoni sentori anche di latte e quindi è fondamentale utilizzare materie prime di qualità togliamo il nostro dolce dall'abbattitore quindi andiamo ad inserire il nostro cuore al lampone in questo modo premiamo leggermente poi andiamo a realizzare un ulteriore estratto di crema chantilly alla vaniglia in questo modo pan di spagna quindi terminiamo con uno strato di crema vaniglia in questo modo e riposizioniamo la nostra santonore in abbattitore buongiorno a tutti andiamo a realizzare dei bignè la farcitura del bignè ma prima di arrivare alla farcitura è importante parlare della cottura e della materia prima utilizzata per realizzare un buon bignè in primis il burro che ricordo di frascheri cosa mi dà il burro frascheri ma innanzitutto cosa voglio avere da un prodotto quale il bignè ma anche una frolla qualsiasi prodotto voglio avere i buoni sentori del latte il buon gusto del burro che esca i buoni profumi che si sviluppano dopo la cottura e quindi per ottenere un buon bignè devo usare un buon burro secondariamente nella ricetta è fondamentale l'utilizzo della panna e anche del latte proprio in fase di cottura perché mi accentua la colorazione come consumatore finale nel momento in cui mi trovo un dolce ma lo stesso bignè di tutti i giorni nel banco vetrina come pasticceria mignon cosa leggo in un prodotto che ha una colorazione come questa che all'interno c'è materia prima materia prima importante quindi comunichiamo ai nostri consumatori in primis con la vetrina in primis comunichiamo a livello visivo quindi è importante usare questi prodotti che danno una bella colorazione mantengono le caratteristiche organolettiche e poi il profumo eccezionale allora una volta cotto il bignè lo andiamo a farcire abbiamo montato della panna panna frascheri ricordo al 35 o al 38 per cento in questo caso io ho usato una 35 per cento quindi andiamo a farcire il nostro bignè in questo modo poi i bignè possono essere anche inseriti farciti con diverse creme crema vaniglia crema cioccolato crema pistacchio ed essere utilizzati per diverse proposte nella pasticceria noi con questi bignè andremo quindi ad utilizzarli per terminare la nostra santonorè adesso li posizioniamo nel frigo positivo ed è importante perché questa panna è stata studiata proprio il concetto della sinergia fondamentale anche nel frigo nel momento in cui devo fare una santonorè posso prepararla farcire i bignè anche tempo prima perché mettendo il prodotto in frigo la panna non tende a separarsi e quindi anche come professionista ho il concetto di organizzazione del lavoro messo con i dovuti criteri e termini per avere sempre un lavoro perfettamente organizzato e un prodotto di altissima qualità quindi andiamo a posizionarli adesso in frigo stiamo realizzando la parte superiore che andrà a decorare i nostri bignè quindi abbiamo sciolto dell'isomalt a 180 gradi aggiunto del colorante rosso alimentare appunto per andare un po' a richiamare l'interno che ricordo esser fatto di palè di lamponi una gelatina di lamponi a base panna e quindi abbiamo ricreato questi piccoli bocconcini che vanno a richiamare un po' il lampone e andranno posizionati sopra il bignè una volta che il prodotto il nostro dolce viene messo in abbattitore e poi nella fase successiva della conservazione nel momento in cui il dolce viene servito ci serve per il consumatore finale lo andiamo a togliere dal conservatore quindi andiamo a posizionare i nostri bignè la cosa importante adesso è appunto andiamo a terminare con panna frascheri montata 38% che ha una perfetta tenuta quindi andiamo a decorare il nostro dolce ecco ricordo che il bello dell'artigianalità è appunto la Sant'Onerè viene finita in diversi modi nelle diverse regioni italiane ed appunto questo è il bello del professionista e dell'artigianalità la cosa importante è appunto scegliere come si diceva le materie prime che mi garantiscono una certa tenuta e un certo gusto ricordo quindi essere una Sant'Onerè con un inserto al lampone che abbiamo appunto utilizzato i diversi prodotti dell'azienda frascheri ok allora andiamo a terminare abbiamo costruito il dolce come torta moderna da avere sempre a disposizione il nostro dolce quindi terminiamo con la nostra placchetta identificativa e quindi il dolce è servito è servito